Sono stati numerosi disagi provocati dall'ondata di maltempo che nella serata di ieri ha colpito la provincia di Salerno. Una perturbazione accompagnata da forti venti che hanno provocato danni ingenti soprattutto nell'agro nocerino sarnese, dove numerosi sono stati gli interventi della protezione civile e dove in molti comuni i sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole per la giornata di oggi. Da anni anche nella Piana del Sere, in particolare a Capaccio Pestum e a Battipaglia, dove la protezione civile è intervenuta per mettere in sicurezza alcune aree interessate dalla caduta di alberi.